eccoci qua ben trovati l'estate non è soltanto mare ma anche montagna e passione per la mountain bike di boschi dei nostri amici che abbiamo incontrato qualche tempo fa ci hanno mandato una discesa libera fatta con la loro mountain bike giù 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 in discesa a tutto fuoco un grosso divertimento dobbiamo metterci il casco stare con loro però è tutto in sicurezza io vi ricordo comunque che se anche voi vorrete mandare qualcosa da far visionare anche altri amici sul web le mail valdinevole news chiocciolina gmail.com non mi resta che dire buon proseguimento con l'estate insieme a valdinevole news e mettiamoci il casco e andiamo in discesa alla prossima bye bye ciao ciao amici oggi siamo qua insieme a mio amico stefano a fare un giochino con la mountain bike ciao raga si fa anche noi caccia alle proto mica solo masserini solo top ciao 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 Ebbia terreno molto secco showman al prossimo giro caccia all'eprotto solo top